Alessandro Bencimenca è stato nominato nella Commissione per il Museo del Realismo e lui il componente designato dal Comune per la Commissione sul Museo, ex Assessore alla Cultura. A prendere tale decisione è stato il Sindaco della città, Gianfranco Di Piero, che ha firmato un apposito decreto. In sei avevano risposto all'avviso pubblico bandito dal Comune, una decisione che potrebbe sbloccare lo stallo sulla messa a disposizione di alcune opere nel Museo dovuta soprattutto all'inserimento nel progetto di Raffaele Giannantonio. Infatti gli eredi dei pittori Gaetano Pallozzi e Italo Pricini, quanto hanno appreso del possibile coinvolgimento nel progetto, hanno fatto un passo indietro, negando l'autorizzazione di esposizione delle opere di due artisti sulmonesi, opere per giunta che costituiscono la parte più importante e caratteristica del Museo. Con Alessandro Bencimenca in Commissione, una persona di esperienza, presidente dell'Archeo CREB, ex Assessore Comunale alla Cultura, le cose potrebbero cambiare. Tuttavia la legge sul museo del realismo è da rifare. La censura è infatti arrivata dall'ANAC nel rispondere a parere richiesto dal Comune di Sulmona. La normativa regionale è legittima il conferimento dell'incarico di consigliere di amministrazione ai componenti del Consiglio regionale, scrive l'ANAC. Tale opzione, in vero, risulterebbe non conforme al riparto di competenze legislative e agli orientamenti espressi della durità sul punto. A riguardo il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, andrebbe rimosso.